Oggi parliamo di chiavi, porte e caffè. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Come sempre, prima di iniziare, ti ricordo che, se vuoi, puoi diventare un mio Patreon e leggere le trascrizioni degli episodi. Buongiorno Andrea, come stai? Spero tutto bene. Mia domanda è, tutti hanno un disturbo ossessivo compulsivo, per esempio il mio, devo sempre avere le chiavi nel stesso posto, se no mi rendere irrecchietto. E qual è il tuo toc? Grazie Alessandro dell'Argentina. Ciao Alessandro e grazie per la tua domanda. Dunque, il mio disturbo ossessivo compulsivo, beh, devo dire di non avere un vero e proprio disturbo, ma sicuramente faccio delle cose un po' strane che mi aiutano a calmare l'ansia. Per esempio, ogni volta che chiudo una porta, devo controllare, almeno una o due volte, di aver chiuso. Non so perché, ma devo sempre controllare e ricontrollare di aver chiuso bene. E questo succede anche quando chiudo la porta della macchina. Magari sto pensando a qualcosa, chiudo la porta, inizio a camminare e poi devo tornare indietro e controllare se la porta è veramente chiusa. Però, secondo me, questo è dovuto al fatto che delle volte non sono molto concentrato in quello che faccio, purtroppo. Delle volte ho la testa tra le nuvole. Un'altra cosa che faccio spesso è controllare e ricontrollare di aver spento il fornello prima di uscire. Il fornello è la parte della cucina che usi per cucinare. Puoi avere delle piastre a induzione o puoi avere ancora il fuoco. Quando vivevo con i miei genitori, mia mamma mi diceva sempre di controllare che il gas fosse chiuso. Aveva paura che ci fosse una perdita di gas. Quindi, prima di uscire, chiudeva sempre il tubo del gas collegato al fornello. Quindi, ancora adesso, io, anche se non ho un fornello con il gas, controllo comunque che le piastre siano spente. Inoltre, una cosa molto strana, forse, non lo so, che faccio è controllare e ricontrollare l'Iban quando faccio un pagamento. Anche perché l'Iban è un codice molto lungo. Ci sono molti numeri, molte lettere. Quindi, ogni volta che devo fare un bonifico bancario, un pagamento bancario, cerco di copiare e incollare l'Iban del destinatario. E poi leggo, rileggo, controllo, ricontrollo... Infine, devo ammettere, devo confessare, di essere una persona dipendente dalla caffeina. Quando mi sveglio la mattina, normalmente sono di buon umore. Sono felice. Ma ho bisogno di bere una tazza di caffè con il latte. Se non c'è il caffè o il latte, il mio umore cambia e divento scontroso. Insomma, non sono felice. Adesso vivo in Francia e la domenica mattina i supermercati sono chiusi. Quindi, ogni sabato pomeriggio, controllo di avere latte e caffè a casa. Va bene, va bene. Grazie mille Alessandro per la domanda molto interessante. Se anche tu vuoi inviarmi una domanda, puoi farlo a andreaet. Oggiparliamo.com E noi ci sentiamo giovedì. Ciao. A presto